allora ragazzi ciao a tutti faccio questo video perchè ho pensato che nei vari video appunto che ho caricato online vi ho mostrato come poter magari sconfiggere potenti avversari le varie tipologie di armi scudi, le skin che si possono fare nel gioco ho pensato che comunque avrebbe potuto farvi comodo sapere che genere di armi ho utilizzato tipo armi, tipo di castoni cioè nel senso tutte le abilità che ho utilizzato io per poter vincere allora premetto che io ho giocato e terminato tutto alla massima difficoltà anche se mi mancava qualcosa da potenziare al massimo quindi almeno io anche se non è tutto al massimo sono riuscito a sconfiggere anche l'ultima valchiria per esempio che secondo me è il boss più forte che c'è allora niente vi faccio vedere come sono diciamo equipaggiato io allora vedete il mio livello di forza il livello runico, difesa, fidelità, fortuna e ricarica io mi sono aggiustato in questo modo allora le mie armi allora le spade come genere di potere ho messo la carica di sparta per quella diciamo base quella più leggera per l'attacco l'unico pesante ho scelto la morsa di iperione con la quale mi sono trovato veramente molto bene la consiglio invece per quanto riguarda il leviatano sempre il castone leggero ho usato la veglia del leviatano e per quella pesante tempesta affilata io ripeto ognuno ha i suoi gusti ognuno ha la sua modalità di combattimento io mi sono trovato bene con questi e sono quelle che ho utilizzato in tutti i miei video sono sempre gli stessi poi ho messo come oggetto epico l'ala del caduto eeeh vediamo un po' cos'altro manca che posso dirvi è la mia preferita cioè furere del lupo insieme ad atreus è quella che ho preferito poi vediamo cos'altro vi posso mostrare allora sto in fissa mi piace tantissimo come tipo di armatura questa allora quelle delle nebbi rivaldi sono quelle che preferisco diciamo più per il mio modo di combattere sono quelle che preferisco vi faccio vedere i castoni che vi ho inserito frammento di tir segno impeccabile del regno occhio del leviatano questi sono quelli che ho inserito per quanto riguarda gli spallacci poi per quanto riguarda i bracciali invece sempre i valdi specifico che diciamo i miei fritti sono questi quindi in prevalenza ho questi come i castoni ci ho inserito la squama del possente simbolo della concentrazione e mente corrotta di i valdi perché mi sono trovato molto bene la parte bassa inutile dirvi di chi sia vi faccio vedere i castoni simbolo dell'elemento cuore della valchiria e marchio perfetto del regno poi come oggetto gli ho messo vabbè i guanti del tempo vabbè vedete il nome i guanti del tempo distrutti eccoli qua accedi ai castoni frammento della esistenza di asgard anima di andvari e occhio del regno esterno scusate se la pronuncia un po' va e viene ma non giocavo al gioco da tantissimo tempo quindi ho per primo un attimo perso la pronuncia allora questa è la mia situazione ad abilità ho praticamente hoppato tutto questo non potevo non farlo perché io sono un fan sfegatato malato e dovevo vedere l'evoluzione di tutto ciò che ha a che fare con le dinamiche del gioco l'estetica delle armi e così via quindi ho aumentato ogni singola cosa eccetto il potere massimo se non mi sbaglio di qualche oggetto qualcuno non l'ho fatto perché volevo battere la valchiria senza avere tutto al massimo è una questione personale tutto qui ah gli scudi hanno diverse skin ve l'ho già fatto vedere in un altro video ce ne sono anche altre ma mi pare che alcune erano disponibili con una pre-ordinazione del gioco o non mi ricordo ora bene questi si vincono alla difficoltà massima e niente questa diciamo è la mia situazione cioè nel senso così io mi sono equipaggiato per poter affrontare la maggior parte delle sfide le più difficili le ho fatte con questa abilità qua ce ne sono tanti vi consiglio di stare attenti quando giocate al gioco di non vendere alcuni oggetti che trovate perché spesso e volentieri alcuni che vi possono sembrare inutili alla fine sono essenziali per permettere a Kratos e a Atreus di potenziarsi al massimo e niente questo per adesso è tutto nel caso doveste avere bisogno di qualcos'altro nella descrizione vi metterò il link dei video in cui ad esempio ho sconfitto la valchiria la massima difficoltà con questo equipaggiamento che avete visto e nient'altro se doveste aver bisogno di qualcosa scrivetelo nei commenti e se è possibile vi rispondo e cerco di darvi tutti i consigli che posso darvi e niente grazie di aver visto il video e spero di risentirci presto ciao a tutti